Arriviamo poi all'articolo 70 che non riguarda l'attività tecnicamente e specificamente delle biblioteche però nel momento in cui la biblioteca diventa anche come abbiamo detto già nella prima parte un ente che organizza eventi, che ha un sito web, che prepara contenuti soprattutto, questo articolo 70 entra molto in gioco. E vedrete che questo articolo 70 è fatto di 3 commi più 1, cioè come vi ho detto queste norme sono state tutte riscritte nel 2003, quindi sono relativamente recenti, non è che parliamo di secoli fa, anche se la legge del 41 vi ho detto, però tutti questi articoli sono stati riscritti nel 2003, quindi abbastanza recenti. Eppure il legislatore si era perso un pezzo, perché infatti quando c'è un comma bis, quando c'è un bis vuol dire che è stato aggiunto successivamente. E infatti la norma 1, 2 e 3 che sono questi, ma in mezzo c'è un comma 1 bis e dopo vi racconto perché c'è stato bisogno di inserire un 1 bis. Il comma 1 invece dice che il riassunto, la citazione o la riproduzione, le tre attività tipiche di chi lavora su testi soprattutto, o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Quindi dobbiamo capire bene cosa si intende per uso di critica o di discussione. Pensiamo ad esempio all'attesi di laurea di uno studente, al saggio di un ricercatore, un articolo scientifico di un ricercatore, il quale deve citare il pezzo di un articolo, di un autore precedente a lui, che dice cose che lui vuole criticare, oppure dice cose che lui vuole approfondire, discutere. Quindi l'uso di critica e discussione è questo, l'attività di recensione di un libro. Ecco, magari voi in biblioteca le fate, arriva un libro nuovo, fate una piccola recensione e la mettete sul sito. Ecco, se andate a prendere piccoli brani di opera per commentarla, per criticarla, per discuterne, allora non dovete chiedere il permesso. Però vedete, deve essere non in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera. Cioè vuol dire che se la mia recensione è di 50 pagine ed è così lunga e dettagliata, per cui sostanzialmente ci sono tutti i pezzi interessanti del libro che io sto commentando, alla fine la gente il libro non lo compra più perché si accontenta della mia recensione, perché nella mia recensione ci sono già tutte le parti che possono interessare. Ecco, in quel caso entra in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera. È un esempio un po' estremo, però, insomma, è per farvi capire che cosa si intende. Poi dice, vedete, dopo il punto in virgola, dice che se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative o per fini non commerciali. Interessante perché se siamo nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca scientifica, insegnamento quindi è anche quello che sto facendo io a voi oggi, questa è un'attività di insegnamento. L'utilizzo dice che deve inoltre avvenire per finalità illustrative, e questo mi sembra sempre abbastanza sottinteso, cioè è chiaro che sto parlando di insegnamento o ricerca scientifica alla finalità illustrativa, non vedo altre possibilità. Non è invece così scontato il per fini non commerciali, questo. Perché vuol dire che traccio una riga, traccio una distinzione bella chiara tra ciò che è attività di insegnamento e di ricerca commerciale e non commerciale, cioè la ricerca scientifica, un classico esempio, fatta dall'Università Statale di Milano, facoltà di farmacia, è un'attività identica a quella che magari fa la Bayer o la Sanofi, ma sono in un ambito molto diverso. Una è ricerca scientifica pubblica, chiaramente a scopo di università e di ricerca pubblica, l'altra invece fa un'attività che è commerciale perché è mirata a vendere i suoi prodotti. E poi è difficile, se andiamo a vedere l'attività che viene svolta dai ricercatori, è magari identica, cioè fanno le stesse identiche cose, però una in un contesto e una nell'altro. E quindi in un contesto posso sfruttare questa libera utilizzazione, nell'altro contesto un po' meno. Salto il comma 1 bis, così vi faccio vedere com'era la norma originale, com'era stata pensata dal legislatore nel 2003, e capiamo qual è il buco che lui si era lasciato indietro. Ovvero, il comma 2 parla di antologie d'uso scolastico, non so se vi interessa molto, perché questo interessa più che altro le case editrici che fanno libri scolastici, però insomma, cosa dice? Che per fare antologie d'uso scolastico bisogna prelevare pezzi, brani di prosa o poesia secondo delle misure determinate, cioè secondo delle proporzioni, quante righe, quante pagine, quanti paragrafi. È tutto scritto nel regolamento d'attuazione di questa legge, che è, appunto, come tutte le leggi, c'è poi un decreto d'attuativo, un regolamento d'attuazione, e dice scritto tutto, è molto dettagliato e noioso, non andiamo a leggerla adesso. Anche perché, appunto, ripeto, non credo che vi interessi molto. Interessa di più questo, cioè questa è una norma, il 3, che riguarda già, diciamo, la buona prassi accademica, il galateo accademico, io lo chiamo, cioè è già acquisito, è già noto che bisogna, quando si utilizza l'opera di qualcun altro, citare correttamente la fonte. Lo dicono tutti, te lo dice il professore di terza media quando fai la tesina per l'esame di terza media. Però, insomma, quella è, lì siamo sul piano del galateo, qua siamo nel piano giuridico, cioè se non utilizzo, scusate, se utilizzo e non cito, sto violando il diritto. Cioè, è una condizione affinché si possano esercitare questi diritti previsti come 1, 2 e 1 bis. Cioè, il riassunto, la citazione e la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore, e se si tratti di traduzione, anche del traduttore. Chiaro? Perché ha senso questo, perché il traduttore è a sua volta titolare di diritti d'autore, quindi deve essere citato. E dice, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Cioè, se in un libro che io sto commentando, criticando, recensendo, il traduttore c'è, ma non è indicato, io non è che devo diventare Sherlock Holmes e andare a intagare, a ricostruire chi è stato il traduttore. Oppure, se non c'è l'autore, perché è un libro che è uscito anonimo, pseudonimo, e non devo diventare matto. Chiaro, quindi questa era la norma del 2003, si sono accorti che c'era un buco, cioè il buco era banalmente internet, cioè non avevano percepito quanto internet nel 2003, perché era ancora un fenomeno nuovo per il legislatore italiano. Pensate che nel 2003, insomma, il boom di internet è stato per l'Italia, probabilmente 2005, 2006, 2007, quegli anni lì. Poi i social media, Facebook è arrivato nel 2008. Quindi parliamo di un mondo che non è lontanissimo, ma era già molto diverso. Se poi una norma è stata approvata nel 2003, vuol dire che è stata discussa probabilmente nel 2001, 2002, perché sapete quali sono i tempi molto lunghi del legislatore italiano, ecco che non avevano pensato a quanto internet poi avrebbe impattato sull'utilizzo soprattutto di immagini e di musiche. E infatti vedete che questa norma si occupa di immagini e musiche, non di altro, non di video, non di testi, ok? Prima notazione. Quindi si occupa di attraverso la rete internet e dice è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia scopo di lucro. Guardate quanti sono le condizioni che noi dobbiamo rispettare per fare una pubblicazione su internet di immagini e musiche protette dal diritto d'autore. Cioè deve essere a titolo gratuito, cioè la gente non deve pagare qualcosa per accedere al contenuto o per abbonarsi al sito. Deve essere appunto di immagini e musiche, devono essere a bassa risoluzione o degradate. Questo aveva creato, mi ricordo, una ilarità non da poco perché non si capiva bene che il diavolo volesse dire degradate perché secondo un informatico degradato è anche un JPEG, un'immagine in JPEG, anche se è lunga, se è grande 10 metri per 8, quindi è sufficiente per fare un cartellone pubblicitario da appendere davanti al Duomo di Milano, però tecnicamente è degradata perché un JPEG è per definizione un formato compresso di immagine. Quindi boh, chi ha scritto questa norma forse non aveva ben chiaro come funziona il digitale. E a bassa risoluzione, idem, a bassa risoluzione non si capisce bene perché la bassa risoluzione è molto relativa alla banda e alla capacità di un computer di macinare un dato. Cioè la bassa risoluzione dei computer e dell'internet del 2003 non è quella di oggi. Cioè all'epoca, non so, un file, mi ricordo che quando si scaricava musica illegalmente con Emule, quei software lì di file sharing, era il B3 A128, no? E sentivi che in effetti la qualità era un po' bassina, no? Sentivi chiaramente la differenza tra un CD originale e quella. Poi se passate al 192 e la differenza si cominciava a sentire ancora meno, da lì in su siamo arrivati ad un livello di compressione tale per cui l'orecchio umano salvo un orecchio di un fonico particolarmente addestrato fa fatica a distinguere la bassa risoluzione dalla risoluzione originale. Quindi anche lì è molto molto relativo. E poi dice che essere per uso didattico scientifico è solo nel caso in cui non sia scopo di lucro. Quindi uso didattico scientifico riguarda voi, sì, cioè io ho una biblioteca che organizzo l'incontro con i bambini della scuola media o delle scuole elementari per leggere Gianni Rodari o per leggere Harry Potter in un contesto didattico, cioè, non so, spiego cosa vuol dire, non so, insegno lo stile, spiego lo stile dell'autore, parlo di cosa vuol dire fare la compressione del testo, o l'analisi del testo, queste cose qua, ecco, quella è un'attività chiaramente didattica, anche se non è fatta in una scuola, è fatta in una biblioteca, quindi ci rientra chiaramente. Idem l'attività scientifica, cioè biblioteche che hanno un dipartimento, non so, biblioteche di università, di centri di ricerca, via dicendo, chiaramente. E deve essere non a scopo di lucro, quindi, vedete. Altra cosa divertente è questa, cioè, con decreto del MIBACT, sentito il parere del MIUR, uscirà al futuro, sono definiti, ma in realtà saranno definiti, i limiti di questo uso didattico scientifico. Cioè, questa norma è scritta volutamente così generica, perché tanto il legislatore ha detto, vi diamo poi i dettagli nel decreto attuativo. Il decreto attuativo, però, non è mai arrivato, nonostante questa norma, vedete, è stata introdotta nel 2007, quindi tre anni, quattro anni dopo, dall'approvazione di tutte le altre. Ed è bizzarro perché sono già passati un po' i tempi per, diciamo, ministri e parlamenti dal 2007 ad oggi, ne sono passati tanti, quindi qualcuno avrebbe dovuto, in teoria, pensarci. Il decreto non c'è ancora, e da un lato, lasciatemi dire, un po' maliziosamente, meglio così, no? Nel senso che, in mancanza del decreto, noi abbiamo la norma e possiamo procedere per interpretazione. Se invece c'è il decreto, e il decreto è molto restrittivo, è molto dettagliato, ahimè, noi giuristi, abbiamo meno da divertirci, cioè dobbiamo semplicemente leggere e applicare quello che c'è scritto lì. Nelle parentesi quadre c'è la storia, cioè c'è il pregresso di come siamo arrivati a questa norma. Forse avrei dovuto raccontarvelo dal contrario, cioè prima di dirvi la storia e poi di leggervi la norma, però, detto molto semplicemente, tutto ciò è arrivato dopo una polemica scaturita dal caso Omolaikus. Cioè il caso Omolaikus era il caso di un sito web, di un sito di divulgazione culturale, tenuto da un professore di scuola media o superiore, che per sua passione faceva quello che ormai fanno in molti. Però all'epoca dovete provare a pensare che cos'era il mondo negli anni 2003-2004, quando internet era ancora con il modem che fischiava per connettersi alla rete e fare un sito web richiedeva una certa competenza, non c'era il tastino come oggi che ti crei la pagina Facebook e sei visibile verso tutto il mondo, non c'era WordPress con i suoi template belli preconfezionati, e questo professore se l'ha fatto un dischetto sbattimento, passatemi la parola, per mettere su un sito di divulgazione in cui lui sostanzialmente metteva a disposizione di tutti, della rete, internet, i materiali che utilizzava a lezione. E quindi all'epoca che con un internet molto meno vasta di quella di oggi, era un sito che aveva un dischetto successo. Piccolo problema, in questo sito questo professore aveva messo anche materiali protetti, perché lui a lezione parlava di autori moderni, parlava di storia dell'arte ad esempio, e aveva messo, non so, quadri di Picasso, di Dalì, di Modigliani, di De Chirico, no? Tutta roba che è ancora tutelata, no? Picasso è ancora tutelato, è morto negli anni 70, e quindi hai voglia che siano passati i 70 anni della morte, da lì addirittura, è ancora più recente. E se tu li metti online liberamente, qualcuno prima o poi si viene a lamentare la realizzazione dei diritti, no? E lì era successo, e dietro segnalazione, la CIA è stata costretta a emettere sanzione, cioè a dargli una multa, detto volgarmente, di 4.200 euro circa, cioè poco più di 4.000 euro, e chiedergli la rimozione dei vari contenuti che erano fuori, diciamo, non autorizzati. Visto che, come dire, il popolo dei divulgatori, ma anche semplicemente dei professori di scuola pubblica, che come sapete non è che prendono uno stipendione, per cui 4.200 euro era una multa che faceva paura, si erano un po' allarmati, si era creato un dibattito, per cui il legislatore ha forse ritenuto opportuno ammorbidire un po' la legge su questo piano, e dire, insomma, è arrivata internet, sostanzialmente prendiamo atto che è arrivata internet, che la gente la usa anche per condividere materiali a carattere didattico e scientifico, e quindi dobbiamo consentire questa attività. Però, ecco, l'ha consentito con tutte queste, con tutte queste raccomandazioni, queste condizioni che dovete tenere presenti. Poi, se volete la storia completa di Homo Lycus, c'è ancora il link, a parte che il sito esiste ancora, è un po' vecchiotto come architettura, vedi che è un po' degli anni, i primi anni 2000, però esiste ancora, e poi c'è il link con un articolo che vi racconta la storia. Prego, c'era una domanda, forse? Volevo capire un attimo, perché mi sono persa. Nell'articolo 1 vi sparla di immagini e musiche. Sì. Mentre invece, nell'esempio che ha fatto lei, della didattica che si poteva fare in biblioteca, si parlava di testi di Gianni Rodani. Sì, i testi siamo qua. Il riassunto, citazione e riproduzione di brani. No, no, no. Sì, chiedo scusa. Sì, sì, chiedo scusa. Allora, siamo comunque nell'ambito di un'unica norma che è l'articolo 70. L'esempio che ho fatto io, sì, è fuori strada, nel senso che questo, ottima domanda, grazie, perché senza chiarimento rischiava di portarvi fuori strada. Quindi, l'uso didattico scientifico riguarda solamente la retta internet, quindi l'evento in biblioteca non vale, non era l'evento, però se io faccio una pagina web del mio sito, della biblioteca, per promuovere questo evento, e lì ci metto le immagini o le musiche, allora ricado sotto il comma 1bis. Perché dico, questo è un evento per me a scopo didattico, questa sezione del sito è la sezione del sito della biblioteca rivolta ai bimbi, ai bambini, alle scuole, dove ci sono progetti fatti in collaborazione con le scuole, quella è chiaramente un'attività didattica, e quindi io lì posso diffondere, perché è una sezione del sito internet della biblioteca, quindi è a titolo gratuito sicuramente, è a scopo non di lucro, perché è il sito della biblioteca, di una biblioteca pubblica, quindi non c'è lucro, deve riguardare immagini e musica assolutamente a basso risoluzione, quindi abbiamo coperto le 4 o 5 condizioni. Se io organizzo, se voglio diffondere, che ne so, fare un commento a Gianni Rodari, in cui spiego come, non so, faccio un'attività di comprensione del testo, di commento, ricado più che altro nel articolo comma 1, perché è riassunto citazione, però non posso mettere le poesie intere, cioè il problema, questo riguarda brani o parti di opera, non posso mettere, che ne so, un racconto, una filastrocca di 5 pagine intera, per dire, tanto io la sto commentando, e quindi rientro nel comma 70, perché dice, è riassunto citazione di brani o parti di opera, quindi anche in quel caso, se è a fini di insegnamento, deve essere per finalità illustrative, e devo utilizzare dei brani delle parti, solo quelle che io scelgo per criticare o discutere, o spiegare ai ragazzi come si crea un testo, o come si analizza un testo, ok? Quindi io quando parlo di immagini, posso usare anche dei testi, che però devono rientrare nelle regole dell'articolo 70. Allora, se parliamo di immagini, cioè l'articolo 70 è un articolo fatto di 4 commi, Che abbiamo visto interi. Se parliamo di immagini diffuse su internet, ricado nell'articolo 70,1 bis, che è questo, devo rispettare queste 4 condizioni. Se parlo di testi, in realtà il comma 1 bis non parla di testi, se leggete, ma quindi ritorno alla vecchia norma, come era prima, cioè riassunto citazione, e purtroppo dobbiamo ricordarci che parla di brani o parti di opera, e quindi io non posso prendere un racconto di, non lo so, appunto Edgar Allan Poe, e lo leggo interamente, lo riproduco interamente, lo fotocopio interamente, e dico questa è, ricado nell'articolo 70, perché no? Perché l'articolo 70 innanzitutto richiede che ci sia critica o discussione, quindi deve esserci sempre l'attività mia di intermediazione, e poi, arrivo, scusate, e poi devono essere brani o parti di opera. Prego. No, quindi praticamente, praticamente la riproduzione di brani riportati nella comma 1bis in realtà non c'è, perché io lì posso fare solo immagini. Immagini o musiche, sì. Il mio esempio, chiedoveni, era fuorviante perché era riferito più genericamente all'articolo 70, però lì stavamo parlando del comma 1bis, e quindi avrei dovuto fare un esempio su immagini e musiche, quindi invece che Gianni Rodale avrei dovuto parlare di un, non so, un fotografo, fare una serata, un corso di fotografia, però anche lì riguardo la rete internet, cioè quindi deve essere un'attività online, cioè io metto a disposizione, pubblico sul sito della biblioteca, una sezione che parla di fotografia, che deve essere, vedete, uso didattico scientifico, quindi ci deve essere, che ne so, l'attività di spiegazione delle foto di Kappa, o delle foto di Olivero Toscani, da parte di un docente di fotografia, e devono essere, a basse risoluzioni, o degradate, a titolo gratuito, vabbè, a titolo gratuito, credo che in un sito della biblioteca non ci siano problemi, e non scopo di lucro, idem, essendo voi biblioteche pubbliche, ok, però, una domanda, prego, se può, a titolo gratuito,